sono nato francesco quindi non me ne vado da qua buongiorno a tutti ragazzuoli bentornati in questo nuovissimo video barra daily vlog barra quello che è barra a tata io sono axel e oggi signori oggi signori siamo qua non so esattamente di cosa parlare oggi non ho esattamente un piano per un video ma semplicemente una matta voglio di bere un caffè perché come al solito ragazzi mi sono svegliato sempre ad un orario abbastanza poco importante come se vogliamo dire in questo modo quindi niente in realtà una cosa a cui stavo pensando in questo momento è che questa cosa di fare daily vlog senza un'idea effettiva in testa mi piace molto perché da molte idee di improvvisazione a me l'improvvisazione piace abbastanza è una cosa che mi sembra affascinato quindi ci fotto oggi ragazzi si improvvisa let's go intanto sto seriamente pensando di tirami i capelli cioè se allora a parte che lo dico sempre e ormai è diventata una frase topic ormai per me quindi una cosa che dico molto spesso ma che poi non faccio in realtà ma signori sono arrivato a un punto che tutto questo accumulo mi dà un po fastidio comunque non so se fammelo crescere o tagliarlo e tenermi rasato e qua a lungo sono un po indeciso sul da farsi ecco semplicemente caffè pronto signori oggi siamo qua perché axan ha in grande difficoltà ma in difficoltà con tante cose della vita ma di cui non può parlare in questo video speravi che te ne parlassi è maledetto in realtà la cosa che spero di fare in futuro allora signori in sti giorni sto parlando con il mio amico un po' di determinate argomenti abbastanza importanti comunque che siccome ci sta molto parlando infatti io veramente amo parlare di questi argomenti comunque apprezzo ascoltare e comunque sapere un po le cose dalle persone e mi sono messi a parlare del fatto del gaslight per chi non sapesse cosa sia il gaslight adesso io non so darvi una terminologia esatta ok perché non è una cosa che io sto principalmente studiando la mia amica invece sì quindi io non non so esattamente come spiegavolo semplicemente in soldoni c'è il gaslight su young dealing pro le povere diciamo quella persona se parliamo in relazione amorosa il gaslight è una cosa abbastanza tossica perché è diciamo la manipolazione di un'altra persona si può dire così far letteralmente perdere la umanità a meno che come la vedo io della persona che abbiamo vicino oppure di renderla più simile a noi in ideologie e cose di questo tipo quindi se io penso che questa cosa è rossa ma non è rossa deve essere forza rossa per te e quell'altra persona all'inizio penserà che sia bianco questo mobile ma poi continuando a ripetergli guarda che è rosso è rosso è rosso prima o poi inizierà a credere che sia rosso io sicuramente ragazzi avevo sbagliato a dirvi questa cosa quindi chiedo intanto perdono però in sostanza è quello diciamo far perdere un po' l'umanità dell'altra persona esattamente il termine più corretto è manipolazione perché io poi posso farti compiere quello che voglio perché io ho il potere ok quindi si va a formare una grande relazione tossica e questi argomenti a me interessano molto e fanno anche abbastanza paura perché effettivamente esistono persone di questo tipo esistono persone che fanno il gaslight perché praticare è un po' brutto perché comunque solitamente viene da un trauma ecco quindi non è proprio neanche una cosa bella per loro nel senso che un passato di merda l'hanno avuto non so se effettivamente c'è qualcuno che può avere questa cosa senza avere un trauma non ho idea sono ancora molto ignorante sull'argomento quindi mi voglio informare bene per magari farci un video un po' più appurato cioè un po' più accurato ecco perché non voglio sparare cazzate più che altro su argomenti di questo tipo quindi mi informerò meglio intanto si ringrazia la mia carissima amica per queste grandi informazioni perché effettivamente è interessante parlarne e quindi niente questo cioè abbiamo parlato di questo argomento qua abbastanza simpatico che effettivamente come ho detto prima fa abbastanza paura perché quando magari vecchi quella persona così non te ne rendi conto magari o comunque sei in un momento diverso magari sei in un momento dove questa persona ti fa comunque star bene ci può anche dire così solo che ti appunto manipola e tu da interno non te ne puoi rendere conto più di tanto le persone esterne ti possono dire guarda che è così però poi cioè tu che sei interno è un po' difficile diciamo comprendere quello che è giusto o sbagliato più che altro per te in un momento del genere che gli fanno gaslight quindi ecco è un po' tesa ma chiudiamo il discorso gaslight perché mi mette troppa ansia questa cosa ok non è che troppa ansia però ecco un po' mi viene in mente i momenti di relazione tossica no che non voglio parlare in questo video perché non lo voglio parlare troppo anche con Gianluca sto parlando abbastanza del fatto relazionale no del fatto relazione sia amorosa cioè della relazione amorosa di quanto sarebbe giusto dare un'altra persona di come sarebbe corretta una relazione determinati problemi che si possono avere durante una relazione che fuori conosciamo bene e possiamo apprendere però all'interno non ce ne rendiamo troppo conto cioè per esempio in questo momento sono abbastanza sicuro di voler rimanere single ok sono abbastanza sicuro di voler rimanere single perché comunque conosco i miei mostri nelle relazioni ecco li conosco e sono arrivato a un punto che vorrei più lavorare su me stesso che dare la mia energia su un'altra persona perché mi sono reso conto che io ho bisogno molte energie per me quindi io devo lavorare molto con me stesso una persona che è esterna che magari appunto può essere mia mia amorosa ecco io non gli chiederò tantissimo nel senso di aiuto perché io sono una persona che conta abbastanza su se stessa in questo momento ed è uno dei motivi per cui dico non ha neanche senso in questo momento strattare una redazione perché non avrebbe senso infatti sono abbastanza nel cil cioè non vado alla ricerca niente ecco per dire fatto sta che ovviamente la vita è imprevedibile la vita è imprevedibile quindi io se adesso metti caso non so dico sta frase per un mese mi fidanzo con qualcuna ecco diciamo che passerai da incoerente però anche lì io metto sempre in caso tutto ecco una persona può prendere una sbandata con un'altra ovvio che io se dovessi prendere una sbandata ci penserei un po' più di volte anche perché ho molti impegni come persona cioè non è che dici non è che sono un uomo d'ufficio un uomo che va in giro per l'italia così via però ho i miei piccoli impegni che per me sono importanti mantenere che per me sono importanti svolgere nel giusto tempo e se io dovessi prendere un altro impegno come può essere avere una relazione questa cosa mi prosciugherebbe abbastanza energie che magari potrei mettere sui miei lavori sulle mie cose tipo i daily vlog i daily vlog per quanto a me non pesino come cosa sarebbe comunque una distrazione in più la relazione ecco perché sono ma non saprei neanche spiegarvi come però sono abbastanza sicuro che dopo un po smetterei perché o trovo quella persona che non mi fa smettere o smetterei ma perché io poi vado molto in uno stato di pigrizza quindi di comodità si può dire così che dico easy chill tanto e poi non penso più a un cazzo di quello che voglio pensare di sensato e serio me sono reso conto in quest'ultimo periodo quindi c'è sono abbastanza sicuro di questa cosa come ho già detto la vita è imprevedibile quindi ogni cosa che io dico in questo momento potrebbe essere smentita in un futuro ma com'è diciamo anche giusto che sia in un certo senso ovvio non è che se domani mi si presenta l'occasione pam vado devo essere abbastanza sicuro ok capiamoci bene tutto ciò perché ieri sera ho avuto una bella chiacchierata con Gianluca su questi argomenti perché comunque sono argomenti di qui parliamo bla bla e quindi secondo me è molto interessante fatemi un po' sapere anche la vostra su questo argomento perché secondo me è molto interessante parlarne anche su gaslight e cose così non lo so oggi mi sono svegliato voglioso di parlare di questi argomenti sarà che in sei giorni ne sto parlando veramente tanto sto approfondendo sempre di più determinati argomenti grazie anche ad altre persone e così via quindi benvenga se anche voi avete nozioni e cose da fornirmi su questi argomenti ecco che a me piacciono comunque mi piace un po bene signori direi che per oggi può bastare qua io adesso farò da mangiare perché mi sono svegliato tardi volo dicendo in suo sto video seguitemi su brancat ho caricato un nuovissimo video esattamente ieri quindi andatevelo a vedere se non l'avete visto e seguitemi mettete un mi piace iscrivetevi al canale seguitemi anche su switch che io mai dico ogni sera che streamo poi mi perdo però quasi finito il dering ogni sera ho fatto malegna tipo al decimo try sono fortissimo una beat rottissima non è vero sono scarso ci vediamo domani ragazzuoli io voglio un mondo di bene ciao